Attuare al più presto sui territori il piano regionale dei rifiuti attraverso l'incentivazione della raccolta differenziata e la realizzazione di impiantistica moderna e all'avanguardia per il compostaggio dell'umido e la trasformazione della frazione secca e quanto sostenuto da Calogero Loret, presidente della SRR Messina Provincia e sindaco di Militello Rosmarino, intervenuto all'incontro su acqua e rifiuti organizzato a Gioiosa Marea da Feder Consumatori Nebrodi. La SRR è in attesa dell'approvazione della pianta organica così da poter contare sul personale necessario per l'espletamento delle funzioni istituzionali che lo ripeto sono quelli del controllo del servizio integrato dei rifiuti, del controllo della tariffa, del controllo delle percentuali di differenziata e soprattutto della realizzazione della impiantistica. Tra gli interventi anche quelli di Alfio Larosa, presidente regionale Feder Consumatori e Lillo Oceano, segretario generale della CGL di Messina. La legge regionale è per esempio di tutela dei consumatori e molto in ritardo rispetto alle normative europee e nazionali. Noi il 29 marzo faremo un convegno proprio specifico sulla necessità di riformare la legge regionale a tutela dei consumatori. C'è una compressione dei diritti ma anche una compressione dell'occupazione e a fronte invece di una qualità del servizio dovrebbe andare verso la raccolta differenziata e quindi verso un maggiore impiego sia di investimenti in conto capitale sia anche di risorse umane.